buongiorno a tutti oggi continueremo a parlare del decreto legislativo 51 2018 che in italia ha dato attuazione alla direttiva 680 2016 questa normativa è importante e non è riferita esclusivamente alle forze dell'ordine essa può riguardare anche le attività che possono essere esercitate da parte degli enti locali ad esempio il decreto legislativo 51 2018 è una normativa piuttosto snella infatti abbiamo già visto che è composto questo decreto da soltanto 50 articoli ed è frutto di uno sforzo legislativo di sintesi che è stato compiuto dal nostro legislatore sforzo di sintesi che probabilmente ha creato però qualche problematica di coordinamento che cercheremo di andare ad analizzare perché potrebbe comportare dei problemi di tipo applicativo ecco capo secondo diritti dell'interessato oggi ci occuperemo dei diritti degli interessati questo capo è composto da sei articoli articolo 9 articolo 14 questi articoli mi avviso vanno esaminati e commentati uno a uno per appunto permetterne la comprensione un discorso veramente generico di così racconto generico non permetterebbe una comprensione adeguata l'articolo 9 riguarda le comunicazioni e le modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato in realtà questo articolo non riguarda tanto i diritti degli interessati ma pone una serie di indicazioni generali di precetti in capo ad ogni titolare del trattamento quindi in capo ad ogni autorità competente a trattare questo tipo di dati per le finalità che abbiamo già visto che sono quelle di cui all'articolo 1 dello stesso decreto di prevenzione accertamento indagine perseguimento di reati esecuzione di sanzioni penali ovvero a tutela salvaguardia dalla pubblica sicurezza contro minacce che la potrebbero pregiudicare ecco io in generale da d'ora innanzi parlerò di attività di accertamento e prevenzione anche in questo caso il titolare in base al comma 1 e al comma 2 di questo articolo deve fornire tutte le informazioni agli interessati del trattamento in modo chiaro semplice e agevolativo e oltretutto deve creare all'interno della propria organizzazione le condizioni affinché interessati possano adeguatamente esercitare in maniera semplice in maniera agevolata tutti i loro diritti con particolare riferimento ad esempio all'articolo 8 che si riferisce appunto al processo decisionale automatizzato ovvero l'articolo 11 che fa riferimento al diritto d'accesso o all'articolo 12 che si riferisce al diritto di rettifica di cancellazione o di limitazione o all'articolo 13 con articolo importante che attribuisce il diritto agli interessati di cui a questo tipo di trattamento di rivolgersi all'autorità di garante all'autorità di controllo affinché questa possa per loro conto esercitare i loro diritti l'articolo 14 è quello relativo alle limitazioni che devono essere che possono essere poste in essere da parte dell'autorità competenti proprio perché stiamo parlando di trattamento di dati nell'ambito dell'attività di prevenzione e di accertamento e 27 che è relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate nei confronti degli interessati in caso di sinistri o di cosiddetta data breach o data breach il comma 4 pone sancisce un principio che già dovremmo conoscere che è previsto anche dal regolamento generale cioè l'esercizio dei dritti da parte degli interessati è basato sulla gratuità ecco quindi il rilascio di informazioni e comunque le indicazioni che devono essere fornite agli interessati più di questi possano esercitare i loro diritti sono sostanzialmente gratuite qui la norma fa riferimento all'articolo 12 paragrafo 5 secondo periodo del regolamento generale e qui abbiamo già a mio avviso un piccolo problema di coordinamento perché il secondo periodo del paragrafo 5 dell'articolo 12 fa riferimento soltanto all'owner in capo al titolare di dimostrare il carattere diciamo così emulativo speculativo o infondato delle richieste degli interessati e quindi può anche rifiutare può anche rifiutare di dare l'informazione agli stessi però non si riferisce al primo periodo cioè primo periodo della norma che consentiva al titolare di appunto richiedere un contributo spese in caso di richieste ripetitive o addirittura delimitare gli stessi esercizi dei diritti qualora questi si manifestino infondati qui sarebbe bastato richiamare il primo periodo dell'articolo 12 o riportare soltanto un po' meglio l'articolo 12 dalla dettiva 680 2016 che specifica le facoltà e le possibilità in capo al titolare il comma 5 dell'articolo 9 è anch'essa una disposizione importante perché si prevede che quanto fermo quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 che fa riferimento alla licità nel trattamento che è sostanzialmente riagganciabile all'esistenza di una base giuridica che legittima l'autorità competente ad effettuare il trattamento dei dati sarà il ministro con apposito decreto a individuare i trattamenti non occasionali di dati personali effettuati con strumenti elettronici per le finalità di prevenzione di accertamento e oltretutto sarà sempre lo stesso ministro con decreto ad individuare i relativi titolari del trattamento questo comma quindi sembra un po' di scostarsi da quello che è un po' un principio generale che caratterizza tutta la normativa che è basato sulla evidenza e importanza delle situazioni di fatto quindi rileverebbero sempre le situazioni di fatto in questo caso sarà il decreto saranno i decreti del ministro che andranno a individuare non soltanto i trattamenti non occasionali basati su strumenti elettronici ma anche le singole autorità competenti che saranno individuate e saranno considerate titolari del trattamento l'articolo 10 di questo decreto invece introduce il tema delle cosiddette informazioni informazioni da fornire interessati lo sappiamo sono importanti perché costituiscono il fulcro il perno preliminare e centrale per poter considerare legittimo lecito il trattamento e questo articolo si compone sostanzialmente di due commi di due blocchi quindi il primo comma il primo blocco è un blocco obbligatorio il titolare del trattamento infatti deve sempre fornire una serie di informazioni minime e si dice che le deve mettere a disposizione anche sul proprio sito internet questa è una distinzione quindi ritroviamo questo progetto che incombe sul titolare del trattamento quando questo opera all'interno del perimetro di applicabilità del decreto legislativo 51 2018 di mettere a disposizione dell'interessato questo tipo di informazioni anche sul proprio sito internet in questo caso primo blocco il titolare del trattamento dovrà indicare appunto l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento come sempre i dati di contatto del proprio rpd la norma specifica se previsto io ritengo che l'rpd quando si tratti di autorità competenti soggette a questa normativa debba essere sempre nominato anche perché se noi facciamo correre il pensiero all'articolo 37 del regolamento generale 69 del regolamento direttamente applicabile e al paragrafo 1 lettera a b e c ci rendiamo conto che è ben difficile immaginare un'autorità competente che non si ritrova ad essere appunto istituzione autorità pubblica o ad esempio a non monitorare su larga scala una determinata serie di interessati o a non utilizzare su larga scala dei dati particolari o dei dati relativi a dati cosiddetti di reato o giudiziari ex articolo 10 dello stesso regolamento generale e quindi a mio avviso l'rpd tranne in casi davvero eccezionali che al momento peraltro non mi vengono in mente deve essere sempre nominato e deve essere sempre indicato nell'ambito dell'informativa che le autorità competenti devono rilasciare a tutti gli interessati ed appostare anche sul proprio sito internet oltretutto devono essere indicate anche le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e il diritto di proporre un reclamo al garante indicando i contatti per poter effettuare questo tipo di reclamo e anche il diritto di accesso di rettifica di cancellazione e di limitazione del trattamento. L'articolo 10 prosegue poi come abbiamo detto con un secondo comma un secondo blocco di informazioni che sembrerebbero soltanto eventuali infatti il comma 2 precisa che in aggiunta alle informazioni di cui abbiamo detto poc'anzi il titolare del trattamento quando previsto da disposizione di legge o di regolamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni quindi il titolo giuridico che poi è la norma che sta alla base della della finalità che può essere perseguita da parte dell'autorità competente il periodo di conservazione dei dati o i criteri attraverso cui è stato determinato il periodo di conservazione le categorie dei destinatari dei dati personali anche in paesi terzi o in seno organizzazioni internazionali e tutte le ulteriori informazioni ritenute utili all'esercizio dei diritti dell'interessato. Ecco qui se volessimo essere maliziosi potremmo in un certo senso ritenere questa seconda parte che apparentemente sembrerebbe eventuale quindi solo da eventualmente inserire nell'informativa come obbligatoria perché se noi andiamo a leggere l'articolo 13 del regolamento ci rendiamo conto che queste informazioni fanno parte di ogni tipo di informativa completa che deve essere fornita agli interessati. È ben vero che il regolamento non si applica nell'ambito delle attività di cui ha la direttiva 680 e quindi del DLGS 51 che è la norma di ricevimento che stiamo commettando però tutto sommato la norma è generale perché quando previsto la disposizione legge o di regolamento devo indicare queste ulteriori informazioni. Quindi io mi sento di suggerire alle autorità competenti di, nel limite del possibile, non prendere in considerazione soltanto la prima parte dell'articolo 10 dando le informazioni dalla lettera A alla lettera E ma di considerare anche la seconda parte dell'articolo 10 e ove possibile inserire anche questa seconda serie di informazioni nell'ambito della informativa che, ripeto, deve essere appostata anche sul sito internet delle singole autorità competenti. L'articolo 11 prevede il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato. In realtà prevede due cose perché se noi prendiamo in considerazione il comma 1 ci rendiamo conto che in primo luogo l'interessato ha la facoltà di chiedere l'esistenza di un trattamento di dati che lo riguardano e se questo trattamento di dati che lo riguardano effettivamente esiste di chiedere anche l'accesso ai dati e a una serie di informazioni. Le informazioni sono praticamente speculari le stesse che devono essere inserite nell'ambito dell'informativa di cui è l'articolo 10 che abbiamo commentato poc'anzi. Quindi se l'interessato ha notizia dell'esistenza di un trattamento di dati che lo riguardano può anche richiedere l'accesso e l'accesso a una serie di informazioni. Questa è la prima parte dell'articolo 11. Ricordo soltanto che il diritto d'accesso ai dati non è esattamente omologo e analogo al diritto d'accesso di quella legge 241 del 90 o ai diritti d'accesso cosiddetto civico. È un istituto leggermente diverso che deve essere compreso e studiato alla luce degli articoli che stiamo commentando. L'articolo 11 ha poi un secondo e un terzo comma che sono importanti. Il secondo comma prevede le limitazioni o l'esclusione dei diritti, cioè il titolare quando, proprio perché compie attività di prevenzione di indagine, deve limitare o escludere l'esercizio dei diritti che l'interessato può porre in essere, può reclamare, può esercitare, deve informare l'interessato stesso senza ingiustificato ritardo. Lo deve fare per iscritto e deve anche indicare i relativi motivi e deve anche indicare all'interessato la possibilità di questi di reclamare la limitazione, il rifiuto al diritto d'accesso e al diritto di conoscere le informazioni che abbiamo visto poco prima al garante, all'autorità di controllo. Il titolare deve sempre documentare i motivi di fatto, disgiuntiva o, attenzione alle congiuntive e alle disgiuntive o, o di diritto su cui si basa la decisione di qui sopra e tali informazioni devono essere sempre rese disponibili, non comunicate, ma rese disponibili al garante perché il garante, vedremo in base all'articolo 13, può effettuare delle attività di controllo e di verifica anche su sollecitazione dello stesso interessato. Quindi il titolare può limitare o escludere l'esercizio dei diritti dell'interessato, deve sempre informare l'interessato, lo deve fare per iscritto, deve documentare i motivi e di fatto o di diritto e deve tenere tutte queste informazioni a disposizione dell'interessato. Questa è una norma apparentemente chiara e sintetica che però a mio avviso può creare delle serie problematiche in termini applicativi perché organizzare in termini applicativi quotidiani questa norma non è affatto semplice. L'articolo 12 prevede il diritto di rettifica o cancellazione di dati personali e la limitazione del trattamento. Il titolare del trattamento autorità competente ovviamente non è detto che abbia sempre la capacità di trattare in modo completo, esatto ed integrale i dati che si riferiscono all'interessato e quindi l'interessato ha il diritto, qualora se ne accorga, di chiedere l'integrazione dei dati che lo riguardano, se inesatti o incompleti. Il titolare oltretutto ha anche il dovere di cancellare quei dati senza giustificato ritardo che non siano conformi agli articoli 3, 5 e 7 dello stesso decreto legislativo. L'articolo 3 l'abbiamo già visto, l'abbiamo commentato nello scorso video commento, indica tutta una serie di principi che sono un po' all'alter ego dei principi contenuti nell'articolo 5 del regolamento generale. L'articolo 5 del decreto legislativo 51 2018 invece introduce il principio di liceità del trattamento, sostanzialmente agganciato all'esistenza di una base giuridica, di una norma che permette all'autorità competente di svolgere il trattamento dei dati, l'articolo 7 è quello che si riferisce ai dati di natura particolare, i classici dati che magari molti di voi hanno già studiato alla luce dell'articolo 9 del regolamento generale. In luogo della cancellazione il titolare può anche limitare il trattamento dei dati perché non è detto che a seguito di una richiesta dell'interessato di integrare o limitare o completare i propri dati corrisponda alla necessità di farlo, magari il titolare, l'autorità competente ha anche bisogno di un po' di tempo per verificare se effettivamente quei dati sono da completare, integrare, limitare o cancellare e quindi in questo caso limita il trattamento se ha bisogno di tempo per dare seguito alle richieste dell'interessato. Il coma 4 conclude dicendo appunto che quando il trattamento è limitato per la impossibilità di accertare le esattezze dei dati, il titolare informa l'interessato prima di revocare la limitazione. L'articolo 12 poi segue dicendo appunto che l'interessato ha sempre diritto di essere informato per iscritto del rifiuto, di rettifica, di cancellazione o delimitazione del trattamento dei dati e dei relativi motivi. Il coma 7 e 8 dell'articolo 12 introducono il tema del coordinamento perché le autorità competenti il titolare del trattamento ovviamente non è detto che tratti quei dati esclusivamente per penalità di cui si occupa in maniera individuale, ma può o deve trasmettere quei dati ad altre autorità competenti, quindi si crea una sorta di circuito nella trasmissione dei dati. Ecco, in questo caso occorre che le varie autorità competenti e destinatari siano coordinati tra loro, vengano informati affinché pongano rimedio nel caso in cui i dati debbano essere appunto rettificati, integrati e completati. L'articolo 13, a mio avviso, è un articolo molto importante che tra l'altro caratterizza soltanto questa normativa, cioè l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato e di verifica attraverso l'autorità di controllo. È un diritto quindi molto molto importante e devo dire pregnante per l'autorità di controllo. Che cosa prevede questo diritto? Prevede che al di fuori dei casi di trattamento effettuati dalle autorità giudiziarie, sappiamo già, lo vedremo anche dopo, che i dati che vengono trattati nell'ambito delle procedure giudiziarie seguono le norme di procedura relative a quei tipi di processi, quindi non sono applicabili le norme di cui al Decreto Giuditativo 51 del 2018, non sono applicabili le norme di cui è il Regolamento Generale 679 2016, quando questi dati si ritrovano all'interno di un processo, ad esempio di un processo penale, ma si applicano le regole di procedura. I diritti dell'interessato, in questo caso l'articolo 13 ci insegna, possono essere esercitati anche tramite il garante, quindi al di fuori delle ipotesi del processuale, che è l'ipotesi in cui i dati vengono trattati dall'autorità competenti, l'interessato si può rivolgere al garante e chiedere al garante che sia a questi ed esercitare i diritti che competono all'interessato. Le modalità sono quelle previste dall'articolo 160 del DLGS 196 2003, per come novellato, questo lo sappiamo già, dal Decreto Giuditativo 101 del 2018. La procedura di cui a questo articolo 160 del Codice Nazionale in tema di protezione dei dati fa riferimento ai cosiddetti particolari accertamenti, quindi in questo caso richiesta dell'interessato, viene informato il garante che deve esercitare i diritti apposto dell'interessato, il garante al proprio interno nomina un componente disegnato che si interesserà della verifica presso l'autorità competente di come i dati di quel interessato vengono trattati e deve dare anche conto all'interessato stesso dell'esito della verifica, a meno che ciò non pregiudichi questioni attenenti alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica o eventuali indagini o accertamenti relativi a eventuali reati. Il secondo comma propone, indica come precetto per l'autorità competente quello di informare sempre l'interessato di questa sua facoltà. Ecco, anche qui a mio avviso c'è una pecca di coordinamento, quindi il comma secondo dell'articolo 13 dovrebbe andare a integrare in realtà le informative, perché nell'ambito della informativa, noi chiamo la legge dell'articolo 10, non è espressamente richiesto, però posto che c'è una clausola di cosura in quella norma di fornire ogni ulteriore informazione ritenuta utile, io mi sento di consigliare a tutte le autorità competenti di inserire sempre l'informativa di questa facoltà prevista all'articolo 13, cioè la facoltà per l'interessato di esercitare i propri diritti attraverso un designato dell'autorità di controllo nazionale. Il comma 3 prevede appunto che il garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie di aver svolto un riesame, nonché il diritto di proporre il ricorso giurisdizionale. Quindi interessato che deve essere informato da parte dell'autorità competente, da parte del titolare di questa facoltà, autorità garante, designato dall'autorità garante, controllo e informativa relativa all'esito del controllo all'interessato da parte del garante. Spero di essere stato abbastanza chiaro. L'articolo 14 propone le limitazioni dell'esercizio del diritto dell'interessato, limitazioni che anche in questo caso caratterizzano questa normativa, perché è una normativa appunto di prevenzione e di indagine e quindi non sempre l'interessato deve essere messo immediatamente nelle condizioni di conoscere tutto quello che capita ai dati che lo riguardano. Quindi diritti dell'interessato, innanzitutto il comma 1 fa riferimento a, ancora una volta, a tutti quei dati che sono contenuti nelle decisioni giudiziarie, negli accertamenti, nelle indagini, nel casellario giudiziale o comunque in un procedimento penale o in una fase di esecuzione penale. In questo caso abbiamo già visto che l'interessato può esercitare i propri diritti sulla base delle norme che sono applicabili a quei tipi di atti e di procedimenti e in questo caso chiunque vi ha interesse durante il procedimento penale o dopo la sua definizione può chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati che lo riguardano al giudice competente che gli scederà in Camera di Consiglio, in questo caso si osservano le norme del codice di procedura penale, in particolare l'articolo 116 e l'articolo 130 del codice di procedura penale. Però al di là di questi casi particolari, cioè di dati che sono contenuti all'interno di una procedura o all'interno di una decisione giudiziaria, il titolare del trattamento può ritardare, limitare o escludere l'esercizio ad alcuni diritti da parte dell'interessato quando ciò è previsto da una disposizione di legge o di un regolamento che deve essere adottato tenuto conto dei diritti e interessi della persona fisica interessata al trattamento. I fini sono a che fine? I fini sono sempre gli stessi, cioè quel relativo al fatto di non compromettere il buon esito dell'attività di prevenzione, indagini, accettamento e proseguimento dei reati o attinente alla sicurezza pubblica o attinente alla sicurezza nazionale o addirittura attinenti ai diritti e alle libertà altrui. Ecco, qui le autorità competenti, a mio avviso, mentre si accingono a limitare, escludere o ritardare l'esercizio dei diritti degli interessati, dovranno sempre preoccuparsi di ritrovare la norma di legge che ciò a loro permette o di regolamento che deriva direttamente dalla legge, tenuto conto dei diritti dell'interessato e tenuto conto anche di almeno due importanti ulteriori principi, il principio della necessarietà e il principio della proporzionalità. Quindi suggerirei di tenere conto di tutto ciò e di documentare anche il perché si è ritenuto, i motivi in base ai quali si è ritenuto di limitare, tardare o escludere i diritti dell'interessato che fanno riferimento, lo ricordiamo sempre, a dati personali quali beni giuridici di secondo grado che servono a tutelare un diritto fondamentale della persona fisica. Bene, con questo abbiamo completato il capo del DGS 51 2018 relativo ai diritti degli interessati, ci vediamo presto con un nuovo video commento relativo al capo 3 attenente al titolare e al responsabile del trattamento. arrivederci a tutti.